Ciao a tutti, oggi ho deciso di girare il tutorial degli orecchini Anami nella versione allungata, quindi nella seconda versione, visto che comunque a qualcuna di voi sono piaciuti e mi avete chiesto anche di girare il tutorial. I materiali sono gli stessi che sono necessari per realizzare gli Anami in versione tonda e comunque adesso li riguardiamo insieme. Innanzitutto ci servirà una monachella o un perno, poi le Rokai Miyuki 15.0, le Rokai Miyuki 8.0, queste sono Duracote Galvanize Silver, poi ci serviranno le Paisley, queste sono Jet, quindi le nere, poi abbiamo le Wipe Duo Jet AB, poi abbiamo dei cipollotti, questi sono verde matite, cipollotti 3x4, e poi abbiamo i mezzi cristalli da 6 mm, anche questi Jet AB. Ovvio che voi potete utilizzare i colori che più preferite. Ovviamente ho dimenticato di dire che utilizzeremo l'ago, sempre numero 12 della Pony, e il filo di nylon monofinamento, quello da 020, che ormai uso sempre. Comunque, per prima cosa, dobbiamo infilare sul lago 6 Paisley nella stessa posizione, appunto, che vedete qui nell'immagine, qui in tutti dallo stesso verso, alternati a 6 Rokai Miyuki 15.0. Ora, ovviamente, chiudiamo a cerchio, facciamo il doppio nudo, nascondiamo il capocorto del filo, con l'altro ripassiamo in qualche perlina, e poi ci rivediamo qui. Una volta fatto questo, ci portiamo, come vedete, ad uscire dal foro alto della Paisley. E in pratica, ci portiamo a uscire dal foro alto della Paisley, non vi preoccupate, tanto poi questo filo non si noterà, essendo quello di nylon, come sapete. E adesso non dobbiamo fare altro che inserire sull'ago una Wipe Duo, dal lato, ovviamente, bombato, nonché colorato in questo caso, e ci andiamo a infilare semplicemente nella Paisley successiva. Tiriamo il filo, che all'inizio del lavoro è sempre un po' lungo. Ecco, la Wipe Duo si incastrerà, appunto, tra le Paisley, e così faremo per il resto del giro. E però, ricordiamoci di ripassare, di fare un giro di rinforzo in queste perline. Ci rivediamo tra un po'. Ecco, una volta fatto questo giro, ci dobbiamo ritrovare così, e ci portiamo, usciamo dalla Wipe Duo, dal foro basso, ci portiamo ad uscire sempre dal foro alto della stessa Wipe Duo. Come ricordate, qui, facendo questa azione, diciamo, qui è ovvio che, a causa della forma della Wipe Duo, il filo di nylon potrebbe sempre vedersi un po' sul retro. A questo mi riferisco, però è ovvio, insomma, è normale che sia così, e poi comunque non si vedrà nulla, primo perché è sul retro, secondo perché il filo è di nylon. Ora, ci ritroviamo in questa posizione e dobbiamo adesso fare un passaggio che, diciamo, è in comune con quello degli anami di forma tonda, e cioè mettere una 15-0, una Paisley in questo verso, un cipollotto, 3x4, una Paisley nel verso opposto a quella messa precedentemente, quindi così, e poi un'altra 15-0. Ecco, questa è la sequenza che dobbiamo inserire, e ci andremo a inserire, ovviamente, nel foro della Wipe Duo successiva. E' ovvio, però, che questa volta non faremo questo passaggio per tutto il giro, ma lo facciamo un'altra volta. Quindi mettiamo la 15-0, la Paisley, quindi presa così, in questo modo, poi il cipollotto, 3x4, la Paisley messa nel verso opposto, e la 15-0, e ci inseriamo nella Wipe Duo successiva. Tiriamo il filo. Quindi questo lo faremo per due volte. Ecco, vedete? Così. Adesso, invece, dobbiamo inserire una 15-0, una Paisley sempre in questo verso, però, adesso, invece, dobbiamo mettere due cipollotti 3x4. Dobbiamo mettere sull'ago due cipollotti 3x4. Ecco, vi faccio vedere la sequenza. Quindi una 15, una Paisley e due cipollotti. E ci andiamo a inserire nella Wipe Duo successiva. Così. Eccoci. Adesso, invece, dobbiamo mettere una 15-0, poi due cipollotti, due cipollotti, e una Paisley messa in questo modo adesso, quindi, diciamo, dal lato curvo, dal lato bombato, ecco, vabbè, la vedete, e poi un'altra 15-0. Questa è la sequenza che dobbiamo inserire. Ecco, questa è, diciamo, la punta, diciamo, della nostra forma allungata. E adesso, quindi, procederemo in maniera simmetrica. Ecco, adesso infiliamo sull'ago una 15-0, una Paisley messa in questo modo, due cipollotti e un'altra 15-0, e ci infiliamo nella Wipe Duo successiva. Ecco qua. Vedete? Ok. Adesso infiliamo due cipollotti, e sempre in maniera simmetrica rispetto all'altro lato, dovremmo mettere due cipollotti, una Paisley presa, diciamo, da questo lato, guardiamoli insieme, due cipollotti, una Paisley così, e una 15-0. E andiamo a infilarci, ovviamente, nella Wipe Duo successiva. Ovviamente passiamo anche nella 15-0 che troviamo dopo la Wipe Duo, e passiamo anche nella Paisley. Passiamo anche nella Paisley, ma passiamo anche nel cipollotto successivo, nella Paisley, nella 15-0 successiva, e andiamo anche nella Wipe Duo. Ripassiamo in un po' di perline. Perché? Perché dobbiamo portarci adesso ad uscire dal foro superiore della Paisley. Vi faccio vedere. Allora, innanzitutto tiriamo un po' il filo. Tiriamo un po' il filo e andiamo a inserirci nel foro superiore della Paisley, questa qui, che poi praticamente, come vedete, ci troviamo al centro, no? Della nostra figura, al centro in basso. Quindi entriamo nel foro superiore della Paisley, passiamo anche nell'altra Paisley, e adesso non dobbiamo fare altro che ricorrere alle 8-0 e al mezzo cristallo da 6 mm. Quindi prendiamo gli 8-0, prendiamo i mezzi cristalli da 6 mm, e infiliamo appunto un mezzo cristallo, scusate, un 8-0, un mezzo cristallo, e un'altra 8-0. Quindi inseriamo questa sequenza e ci andiamo a inserire praticamente nelle altre due Paisley che sono vicine e che sono appunto quelle successive al punto in cui ci troviamo. Ok, poi infiliamo sull'ago 3-15-0 e ci andiamo a inserire nei due cipollotti che troviamo qui. Eccoci qua. Adesso faremo praticamente dei giri tutti intorno durante i quali aggiungeremo sempre qualcosa. Adesso vediamo insieme. Qui ripassiamo nelle perline per come le troviamo fino a quando non arriviamo alla, diciamo, usciamo dall'ultimo dei due cipollotti qui. Adesso ecco qua. Praticamente usciamo da qui, dall'ultimo dei due cipollotti che troviamo qui in cima e infiliamo sull'ago 3-15-0 3-15-0 e ci andiamo a inserire nelle due Paisley che si trovano in cima. Tiriamo il filo e ci ritroviamo così. ok. Adesso inseriamo altre 3-15-0 e ci inseriamo nei due cipollotti che troviamo qui. Anche nella 15-0 se riusciamo contemporaneamente anche nella Wipe Duo altrimenti lo facciamo adesso. Poi nei cipollotti cipollotti che vengono ancora dopo e qui uscendo dal secondo dei due cipollotti vedete da qui inseriamo di nuovo 3-15-0 e ci andiamo a infilare nel foro superiore della Paisley della prima ma anche entriamo nell'altra Paisley che si trova accanto. Qui siamo giunti nel punto in cui dobbiamo fare come abbiamo fatto di qua e quindi mettere una 8-0 un mezzo cristallo da 6 e un'altra 8-0 questa è la sequenza e ci andiamo a inserire qui sempre nelle due Paisley ora adesso ripassiamo anche in questo in questo 8-0 nel mezzo cristallo da 6 e nell'altra 8-0 e in pratica dobbiamo adesso inserire una 8-0 poi due cipollotti un 8-0 e due cipollotti e poi anche 5 15-0 vediamo insieme la sequenza eccola e ci andiamo a inserire nelle tre Rokai che avevamo qui ripassiamo nelle perline che incontriamo ovviamente lungo diciamo il nostro cammino qui tiriamo il filo e si viene a creare questa situazione andiamo ancora avanti ripassiamo nella web 2 nel 15-0 nei due cipollotti scusate nelle 3 15-0 e adesso e adesso dobbiamo inserire ecco vedete siamo ripassati semplicemente nelle perline che avevamo e adesso dobbiamo inserire 2 15-0 sul lago un attimo 2 15-0 poi una 8-0 un mezzo cristallo da 6 un'altra 8-0 e 2 15-0 le perline sono sparse come vedete per la mia postazione così qui vanno in giro ecco ecco qua quello che dobbiamo inserire dove ci andiamo a inserire ci andiamo a infilare nelle 3 rocaille che abbiamo dall'altro lato ecco qua ridiscendiamo sempre nelle perline che abbiamo quindi praticamente faremo così il ripasso in questo caso perché comunque ripassiamo più volte lungo i lati per andare da una parte all'altra lavorare da una parte all'altra ecco come si sistemano le perline che abbiamo appena inserito ripassiamo nelle perline che appunto ci troviamo da questo lato passiamo anche quindi nella web duo nei due cipollotti in queste 3 rocaille 15-0 e adesso dobbiamo fare quello che abbiamo fatto dall'altro lato e cioè inserire 5 rocaille 15-0 adesso vi faccio vedere tutta la sequenza 5 rocaille 11-0 scusate 15-0 le 11 per fortuna in questo progetto non le usiamo e poi dobbiamo mettere due cipollotti due cipollotti e una 8-0 quindi riguardiamo insieme quello che andiamo inserire ecco qua e ci andiamo a infilare nella ecco scusatemi nell'auto 0 e c'è il filo davanti allora ci andiamo a infilare nell'auto 0 nel mezzo cristallo da 6 e nell'altra 8-0 e adesso dobbiamo infilare un'altra sequenza e cioè questa dobbiamo mettere una 15-0 tre cipollotti un'altra 15-0 vediamo la sequenza e andiamo a infilarci nell'altra nell'auto 0 che troviamo qui nell'auto 0 nel mezzo cristallo da 6 e nelle altre 2-8-0 tiriamo il filo ecco ecco questa è la nostra forma diciamo degli anami in questa seconda versione vedete eccola qua dobbiamo però completare ancora il giro e quindi cosa facciamo adesso andiamo a inserirci solo nel primo cipollotto che ci troviamo subito dopo tiriamo il filo e mettiamo tra questi due cipollotti una 15-0 infatti dobbiamo poi tra l'altro tirare un po' qui il infilo ecco qui andiamo a infilare una 15-0 qui nelle tre due cipollotti e poi risaliamo lungo le perline che troviamo dai bordi sul bordo cioè e quindi risaliamo su sempre nei due cipollotti poi proseguiamo nella web duo negli altri due cipollotti qui non inseriamo nulla tra di loro passiamo in queste che adesso sono diventate 5 15-0 tutte tutte insieme il filo si sta un po' rovinando perché sto tirando un po' male adesso passiamo anche nell'auto 0 e solo nel mezzo cristallo da 6 perché perché dobbiamo fare diciamo quello che sarà l'aggancio per la nostra monachella e lo faremo mettendo sul lago 10 15-0 ecco abbiamo messo sul lago 10 15-0 e ci andiamo a infilare però nel mezzo cristallo nello stesso mezzo cristallo da cui siamo usciti però dalla parte opposta ecco qua quindi così formiamo diciamo il nostro cappietto scusate non va a fuoco ecco qui questo è il cappietto però proseguiamo noi lungo il bordo della nostra lavorazione proseguiamo andiamo giù passiamo attraverso la web 2 passiamo attraverso i cipollotti e attraverso queste rocaille e poi quando arriviamo qui però dobbiamo mettere tra un cipollotto e l'altro una 15-0 che vada diciamo un po' incastro la mettiamo tiriamo il filo ovviamente adesso usciamo andiamo ad uscire diciamo finché possiamo usciamo ancora qui perché tanto qui dobbiamo ripassare e arriviamo passiamo anche nella 15-0 e arriviamo ai cipollotti quelli centrali quelli che si trovano centrali sotto ecco in questi cipollotti tra questi tre cipollotti andremo a mettere due 15-0 quindi una prima 15-0 e un'altra 15-0 proseguiamo il nostro giro andiamo avanti ecco vedete queste due 15-0 che abbiamo appena posizionato incastro e continuiamo risaliamo per ennesima volta lungo il bordo spero che questa cosa insomma non vi sembri noiosa ma insomma inevitabile perché così possiamo in tutta la struttura si stabilizza ma poi solo così abbiamo un modo di aggiungere man mano che procediamo le cose che è necessario aggiungere insomma il filo l'ho fatto un po' troppo lungo io ho tagliato un metro e cinquanta per sicurezza ma penso che anche un metro e trenta forse anche meno vi potrebbe bastare sempre meglio essere abbondanti col filo perché come sappiamo poi dopo è noioso andarci a fare delle aggiunte insomma però penso che un metro e trenta sicuramente ci state abbondantemente perché io l'ho fatto un po' troppo lungo e adesso si vedono gli effetti diciamo negativi di questo un attimo che continuiamo a andare avanti nella lavorazione però adesso qui io devo aver fatto ecco sono andata oltre invece noi dobbiamo uscire dalla 80 eccola qua dobbiamo uscire dalla 80 un attimo che vi faccio vedere bene e qui dobbiamo inserire una rocaille 15 0 eccola e andiamo a proseguire nell'archetto nel cappietto che avevamo fatto prima quindi inseriamo una 15 0 e proseguiamo nella lavorazione fino ad arrivare alla rocaille che viene appunto appena prima la 80 quindi passiamo anche in questa una volta che usciamo di qui dobbiamo inserire un'altra locaille 15 0 eccola scusate e ci inseriamo nel resto della lavorazione andiamo avanti ovviamente però cosa succede adesso che siccome noi siamo già ripassati tante volte attraverso le perline potremmo in pratica uscire fare se volete un altro giro ma insomma mi sembra anche superfluo però ammettiamo di andare avanti ancora un po' e poi ripassate eventualmente e potete fare il nudo e poi nascondere il filo che resta nella lavorazione ecco questi sono gli anami quindi io direi che adesso faccio un giro di ripasso se ci riesco se è necessario poi faccio il nudo e taglio il filo ci rivediamo tra un po' ecco qua poi alla fine l'ho fatto il giro di rinforzo visto che aveva ancora un po' di filo comunque per quanto riguarda il filo almeno un metro e quaranta si tagliatelo per sicurezza ecco questi sono gli orecchini anami nella seconda versione spero che vi piacciano per quanto riguarda la stabilità siamo messi abbastanza bene non ci sono problemi e niente spero che vi piacciano se li fate taggatemi scegliete i colori che volete io sarò felice di vederli grazie e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie